L'Ultimo dei Moicani Arrangiamento di Davide Gordi L'Ultimo dei Moicani è l'ennesima trasposizione cinematografica dello romanzo di James Fairfield e di sicuro l'opera più conosciuta dal grande pubblico La vicenda inserita nel contesto storico della guerra anglo-francese del 1757 per il possesso coloniale del nuovo mondo ruota attorno alla figura di Nathaniel Howe, regista del film Michael Mann Le stupende musiche, composte da Trevor Jones e Randy Herman hanno un commento sonoro di rara efficacia e lodevole decisività che esalta tanto il tono drammatico, tanto quello epico e romantico della pellicola Senza tale intenso soundtrack il film non sarebbe lo stesso Il Corpo Bandistico Gittà di Levinara vi propone questo arrangiamento di Davide Boario di indiscutibile forza ed espressività L'Ultimo dei Moicani L'Ultimo dei Moicani L'Ultimo dei Moicani Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.